Sono tre le proposte Android del produttore taiwanese Acer che in queste ore danno bella mostra di sé in quel di Barcellona nei pressi dello stand della compagnia asiatica. Si tratta di tre terminali appartenenti alla serie di smartphone Liquid, quella per intenderci con la quale Acer tenta da anni di guadagnare importanti quote di mercato nella categoria. In particolare parliamo di liquid E1, C1 e Z2. E1 e Z2 sono soluzioni dotate di piattaforme Mediatek rispettivamente appartenenti al segmento medio e entry level del mercato. Nel caso di Z2 troviamo infatti un SOC Dual Core, un display di qualità decisamente maggiore e delle prestazioni generalmente più interessanti. E1 associa invece un design molto simile a quello di Z2 a delle caratteristiche tecniche di livello inferiore, adatte tuttavia alla fascia di prezzo nella quale si inserisce. Z2 ed E1 saranno entrambi disponibili nel corso dei prossimi mesi, ad un prezzo di 129 e 199 euro tasse incluse. Leggermente diverso invece il discorso riguardante Liquid C1, pur essendo infatti anch'esso uno smartphone Android e l'unico dei tre dotato di processore Intel, e anche quello che per il momento non verrà commercializzato in Italia. Per Hacer dal Mobile World Congress è tutto, un saluto elettore di Hardware Upgrade!